Ehi la turma, benvenuti Allora, sto sistemando un attimo un paio di cosine, belle cosine E ci siamo, e ci siamo, allora mi tengo però, ecco OBS qua di lato, pronti per partire Tutto possiamo mettere magari della musica di sottofondo Sperando che non mi facciano saltare per aria E tutta musica della Ludo Narracon Per cui teoricamente non dovrebbero farmi guai Perché è la stessa che ci sarebbe se mettessi i giochi Allora, vediamo un po' Spero che non sia troppo forte, dovrebbe essere buono Però poi fatevi sapere in caso Allora Allora, io vorrei aprirlo con No, va bene, questo forse Beh, questo è vero è una cosa carina effettivamente, vediamo un po' no, allora forse quello che mi serve tra l'altro se perché dovesse arrivare qualcuno inglese, francese, 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 english, francese no, non li troverò qua voglio fare una cosa carina per il le recensioni ext4, ok assign drive letter, ok perché non me lo apre e sono niente non mi farei aprire, beh vabbè nulla farevo che matita com'è ok no vada ok allora vorrei fare una cosa divisa in quattro step quattro step allora dei giochi presentati nella ludonarracon mi sono messo a studiarli, ho provato parecchie idee, ho guardato che cosa fanno e cosa non fanno devo abbassare la posta musica, mi sta ok, fastidendo dicevo, li ho suddivisi in quattro categorie, quattro tier diciamo, dai meno interessanti ai più interessanti inizierei andando a salire e intervallo ognuno di essi con ogni categoria con una demo quattro demo quattro categorie diciamo che si può partire che ne dite iniziamo stasera, continueremo domani pomeriggia per cui, allora facciamo subito una cosina tipo questa cos'è? facciamo che duplicare questa la chiamo ludonarracon e ci metto qua invece questo lo piglia? no, non lo sta prendendo ma facciamo aggiungi cattura finestra vado a cattura finestra ok però deve stare sotto di me perchè ok questo lo togliamo per ora ok eccoci, ottimo, 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 ottimo che poi c'è ok così dovrebbe andare bene non vedete la parte a destra ma chi se ne frega non è una cosa preoccupante iniziamo iniziamo con il tier 4 cioè quelli più scarsi quelli che sono meno 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 interessanti il primo button city vediamo un 4 button city potete trovare la sua demo e tra quelli che si possono provare durante la ludonarracon non sembra assolutamente per niente narrativo sembra un simulatore di gattini strani che vanno a giocare dei cabinati arcade mentre le madri si disperano dietro mi è sembrato davvero poco interessante poco ispirato a livello grafico nulla dal punto di vista narrativo per cui 4 non è ancora uscito tra l'altro esiste solo la demo al momento poi andiamo per passare giù a game director story quattro sembra noioso è un manageriale in cui si fanno videogiochi ma in modo molto noioso potrebbe essere che la storia lo tiri un pochettino su controlliamo degli animali ma boh non mi è convinto molto inoltre non è ancora uscito per cui è difficile smentirlo del tutto andiamo poi a i was a teenage exocolonist che già il titolo è una delle cose più brutte del mondo sembra molto troppo forzatamente strano per cui non mi ha assolutamente interessato non è uscito quindi anche questo potrebbe essere che mi smentirà ne è sparito uno qua tra l'altro nella stampa ce n'è uno che non mi fa vedere qua mi pare scusate che torno un attimo sulla pagina di firefox non lo indica più non viene più indicato forse si è stato rimosso all'ultimo va bene era un 4 comunque per cui in our other waters ne ho sentito parlare molto male sembra molto noioso bisogna controllare delle AI che controllano dei subacquei a loro volta poco poco interessante non c'è la demo da provare andiamo a kraken che è qua kraken academy 4 cringe sembra molto strano forzatamente sembra per rendere il peggio dagli anime e a me davvero non ha detto nulla non è ancora uscito per cui si potrà vedere andiamo ancora a love shore che anche questo non mi ha detto molto non mi ha ispirato non è uscito non ha avuto modo di essere smentito da nulla attualmente ah ne ho saltato uno che però in realtà è qua e si merita un bel 4 later daters ho provato la demo eeeh no è un dating sim di ultraottantenni che si trova in una casa di riposo e è davvero molto cringe anche perchè tutto quello che potevano sfruttare male l'hanno sfruttato male secondo me è forzatamente gender fluid e in più non non dà ragione secondo me a quello che effettivamente può essere la romanticità o romanticismo o comunque la bellezza di una relazione amorosa a quell'età che che prescinde molto di più l'attrazione fisica di quello che non è per la gente giovane per cui secondo me è proprio una una cosa sprecata passiamo poi a come murder mystery machine 4 più che altro perchè si capisce e si vede molto molto poco eeeh non è ancora uscito sembra un investigativo ma lascia trappelare davvero davvero poco di sé per cui l'ho messo nella categoria 4 eeeh no longer home sembra molto triste eeeh a me non piacciono tanto le cose gratuitamente tristi per cui l'ho messo nella categoria 4 potrebbero sempre smentirmi questi sono tutti dei miei pareri parziali ovviamente non ho giocato tutti questi non è ancora uscito eeeh nuts invece è uscito c'è la demo mi è stato detto che il gioco completo è noioso ho provato la demo è molto noiosa devi praticamente spostare delle fotocamere vedere se passa uno scogliattolo se quella notte non passa l'ultima fotocamera devi spostarla un po' più in là per far sì che effettivamente passi lo scogliattolo poi dopo va un po' più in là lo scogliattolo allora la notte dopo devi spostarla un po' più in là per capire dove si sta spostando è un po' uno strazio e non succede nulla a livello narrativo almeno nella demo ma penso neanche in generale out there oceans of time spaziale non mi ha convinto più che altro perché non ci vedo tanto la narrativa né la bellezza dell'esplorazione spaziale ma non l'ho provato ed è uno di quelli che potrebbe essere potrebbe anche stare in una categoria un po' più in alto di quello in cui l'ho categorizzato adesso non è ancora uscito per cui posso benissimo essere smentito paradise killer simile a kraken academy molto 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 forzatamente strano con delle cose non necessarie la trama non mi sembra interessante non c'è la demo è uscito ma non c'è la demo non so dire molto di più song of arca dov'è che è song of arca è questo qua non mi ha non mi ha intregato non mi ha preso nel trailer nella descrizione nulla categoria 4 eeeh the dark side detective a fumble in the dark sembra interessante la descrizione ma non particolarmente ispirato né come grafica come trama non ho approfondito ulteriormente non c'è una demo ma è uscito the invisible hand è un simulatore di broker finanziario devi fare i conti tra guadagnare o rispettare un'etica in un certo senso per cui non è che è una cosa che mi ispirasse molto è un gioco in cui guardi un altro schermo a tua volta per cui non mi sembrava una cosa particolarmente bella soprattutto nell'ambito narrativo che è quello che voglio più andare a scandagliare in questa situazione qua non c'è la demo e non è uscito eeeh eeeh altro 4 ha umaranji generation mi ispirava molto poco ho detto però proviamo la demo visto che c'è la demo e il gioco è uscito ma no 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 ti danno una fotocamera devi riprodurre delle delle foto particolari in uno spazio in un livello in cui sei entro un determinato tempo fine con grafica non interessante con sonoro non interessante ultimo wayward strand sembra molto triste non lo so non mi ha convinto molto la trama non mi ha convinto molto il gameplay eeeh c'è il gameplay la descrizione eeeh non è ancora uscito non so dire di più probabilmente magari avrò tempo di guardarmi la demo o che quindi la categoria 4 si conclude così passiamo a provare la nostra prima demo la nostra prima demo che oggi è Mind Scanners eeeh per cui ringrazio tra l'altro eeeh l'editore perché eeeh c'è lo sviluppatore perché ha deciso di eeeh mandarmelo mettiamo in pausa in questo caso la colonna sonora che era di disco elisimo in questo momento tra l'altro eeeh mentre sta caricando Mind Scanners vi ricordo che la ludonaracone è supportata da fellow travelers che è un editore australiano è il terzo anno che lo organizza è un evento molto interessante se volete supportarlo ha creato per quest'anno un pacchetto apposito che si compone di della colonna sonora che stiate ascoltando che abbiamo ascoltato fino ad adesso eeeh di eeeh molti artwork presi dai videogiocchi che sono presenti in questa edizione tra cui alcuni carini dopo in caso ve ne faccio vedere alcuni e un videogioco creato apposta per questa occasione che è Cyrano basato proprio su Cyrano de Bergerac la PS teatrale eeeh che ho avuto modo di giocare perché mi è stato mandato la scorsa settimana ed è molto bellino è comunque un titolo dal basso basso budget per cui non aspettatevi chissà che cosa è un titolo di circa un'ora un quarto di durata tutto filato perché non ci sono salvataggini mentre ma è molto teatrale è molto ispirato è molto indie diciamo eh alcune cose non sono al top ma appunto è un un gioco che ha poco più budget e poco più tempo di un gioco di una game jam e l'obiettivo non era quello di eh guadagnare soldi facendo questo gioco ma più che altro rientrare nelle spese dell'organizzazione della Ludo Narrakon detto questo passiamo a perché qua non funziona ok passiamo a Mind Scanners di cui non so granché se non il fatto che mi è sembrato molto simile però se non lo passo sopra ok ok perché non lo sta prendendo ah no è oscurato adesso lo prendi ok ok ci siamo perfetto perfetto a Zignoka Institute as she ha shown signs of mental illness details of her condition are classified but we assure you that she is in good hands for normality in the mind structure request to visit your daughter is denied to visit the Zignoka Institute you must be a mind-scanner with a level-free citizenship we understand your concern but there is no need to worry for your inconvenience your daily maintenance is reduced by two couples the structure quindi partiamo con nostra figlia che è considerata come malata mentale dalla struttura non ci permesso visitarla perché non abbiamo una cittadinanza abbastanza elevata e ci dice che ci verranno detratti dal nostro stipendio ogni giorno due per mantenere appunto nostra figlia almeno mi pare di aver capito per mantenere nostra figlia ok congratulations you have been accepted to the mind-scanners program enclosed is the needed equipment for a job this includes a radiophone through which you will receive further instructions the constructor thanks you for your service for normality and the mind the structure allora apriamo questo bauletto ok in cui ci sono c'è il nostro interfono qua quindi no quindi no non è il mantenimento per la figlia è il mantenimento per un ostro this map shows citizens who have shown signs of strange behavior right now only one citizen needs your attention go pay him a visit suppongo che sia tipo tutorial questo che brutto sembra una faccia da broccolo Rutger Rutger is a true nature enthusiast he knows every tree in the structure and is the chief conservator of core forests lately he has become more connected with nature in fact he believes he is an oak tree ah ok andiamo dal paziente swoosh swoosh this citizen has already been scanned his insanity amount and insanity types are displayed here ok a 3 di insanità con questi 3 tipi ok start treatment and remove his insanity before time runs out ok ok non possiamo fare gli altri possiamo solo iniziare il treatment ok ah no dobbiamo cambiare qua eh eh questo eh si poi c'è questo treatment complete questo cos'è la sua salute personalità stress ok 10 capo occhio ci han dato ok I'm not an oak tree no that's sort of silly isn't it I guess I spent too much time with vegetation I better go visit my friends again thank you thank you so much ok ok good job my scanner no more citizens require your attention today get some rest and continue tomorrow ok ah questo è il tempo che abbiamo per la giornata end of day one maintenance meno sette capo o meno sette ma non erano due va detto forse due per la figlia e cinque per noi bene you toss and turn in your sleep dreaming about your daughter ok giorno due three citizens require your attention and choose a citizen and perform a mind scan to unravel their insanity remember you take full responsibility for their diagnosis ok allora abbiamo come on a question is a talented journalist from the core through her methods are starting to get questionable rumors have began to flourish of bite and glow marks on her sources ok ok a little bit on Steffi Sparkle's familiar face can be seen on advertising and products around the structure but despite her success a growing sense of unease is having a radical effect oppure Christine formerly known as Becky Jo Smith after one implant led to another Christine quickly became one of our city's most vocal and possible extreme cyber activist ehm allora hanno anche questi un tempo di percorrenza vedo 75 75 80 ehm non so quanto cambi più che altro quello che mi pagano io sono curioso più che altro di questa qua dei cyborg per cui proverei andare qua vedere un po' che cosa dobbiamo fare poi ci resta pochissimo tempo non so se riusciamo a fare un'altra greetings are you interested in a pamphlet? it's a light read I have them here somewhere no time for reading keep it maybe you will have time some other day you'd like it trust me I'm here to scan you well that makes me a little nervous gotta say but ok I guess facciamo lo scanner ok doctor so I'll tell you what I see on the screen hope you can make sense of it let's begin ah quindi base a quello che vede it's the intersection by my school people just frantically crossing the street in every direction no logic to do it to eat just pure animal instinct disgusting really interesting traffic ah one question del tempo non ce la facciamo fare un altro argh some weak plain skin naked in front of god well not for much longer soon humans will see they'll all feel the power of the next step uh dreams of the cyborg regime hmm a human riding in a car what a parasitic relationship why two separate entities one mooching off the other they should be one they should be one uh uh purista no i sembra solo dei tre in realtà amico dei parassiti no dance lessons everyone had to take them in my quadrant looks beautiful here in your helmet but i sucked my legs never did what my mind told them to ok the sign we use on the door of our secret cyborg club the guys there they have some pretty interesting ideas on how to deal with the plain skin problem no pain no gain extreme measures ok the electric noodle robotic waiter he's probably trashed by now but when i was a kid i used to look at it and think how satisfied it looked with its existence ok ok quindi abbiamo scoperto christine has developed an inexplicable click eh inexplicable hate for humankind and believes she must advance every citizen to a cyborg state by any means necessary direi che non è sana ok robotosis ok 5 di questi due tipi ok within treatment ok ok qu'è ah ah ok libero qua va bene stress personality ok no no did someone tell you to do this this is unbelievable i guess they can't handle my message of love and understanding you're breaking this mechanical heart you're breaking your psychotron treatment device seems to be unstable avoid red areas on or the treatment will stress your patient if you want to develop another device use the left panel to access the device manager ok ok però quanto vi costa su device that matches the insanity type of your patient eh tipo questo quanto vi costa 40 per svilupparlo per fare 3 di fila ma io non ne ho 3 di fila la questo cos'è 3 di fila eh oh proviamo a svilupparlo però eh no ok user aspetta chiudi qua no aspetta eh do star treatment ok ah ce n'è altre di fila ok per cui mettiamo questo come un continuo Si stresa se va dotr' polo voce. No, ho finito. Ho speso troppo per quello a fare là, porca miseria. Non dovrei sviluppare quell'altro perché comunque non è che mi ha velocizzato più di tanto. Non mi interessa. No, ho finito. Ok, più dieci, almeno così sopravviviamo oggi. Ok, sembra che stia meglio. Adesso dove andiamo? Da questa 75, qua 80. E ora cosa che 75... Ah, quindi non ci calcola più il tempo da là, ci calcola da dove siamo. Almeno iniziamo a vedere che cosa vuole. Oh, a mine scanner. Come's work coming along? Keeping up the status quo, I hope. It's the kapok scanner by my front door. I don't get this. We pay maintenance every day, but what are all these billions of kapok being used for? The suits are overrun with trash. Makes you think. Questions the system. It's a Zignocca refinery. People who work there get all sorts of afflictions and mutations. It's not like they have a choice. Not everyone is appointed a safe job. But a stun, Ray. I saw the police use it on a street vendor once. He hit the ground instantly. I imagine the chaos if everyone had one of these nasty thing. Mrs. Sparkle has developed the fantastical notion that the structure is not acting in her best interest. She is clearly against the system. This anti-structure behavior is a danger to our society. Ok, seguiamo il potere. Seguiamo. Vediamo un po'. Insane. This world is insane and I think you know it too. You know what you're doing but you just don't care. It's them despicable. Go on, Kog. Make this machine run. Allora, il più. Un managgio edificio che dobbiamo fermarlo un attimo prima. Come ho bisogno di questo? Oh. Ok. No. No. ok e poi questo qua di nuovo aia ok se aveva fatto il pelo Mareo 10 capoc ok happiness è fondazione nella stessa della sua for normality in the mind e i forgot to mention a minor side effect of your treatments they sort of reduce the personality of your patients once the personality è completely removed it can never be recovered but no worries you'll get paid either way their insanity is first priority, it must be removed at any cost, do not listen to the structure, you need to take care of your patients, do not remove their personality, keep treating but treat with care, moonrise, la pergola è to con le voce delle notizie, non riuscivo, chiudiamo la giornata per che troppo tale, do you want to end the day, yes, end the of day 3, a comfortable dream turns into a nightmare, then you wake up, greetings, mind scanners have recently been contacted by terrorist group known as moonrise, these people seek to destroy our society and must be stopped, have they contacted you, ok, if you receive a message from them or any suspicious message, you are obliged to tell us, we will make sure to protect you, for normality and the mind, the structure, non mi fido di loro, per cui gli dico che no, non ne so nulla. Andiamo dalla nostra cara amica, ma qui siamo fermati a dormire a casa dalla tizia? Travel 85. Ah, this is a first, you've come to interview the interviewer, this will be interesting. She moves close to you and puts her hand on yours, her nails resting on the back of your hand. Push her away. Oh, why did you do that? Bastard. Looks like the logo of the paper I used to work for. What a bore. A reporter needs to be savage. A A good story is worth anything. Pessery journalist. Okay. Oh god, that's, it looks like Mew. My childhood cat. My dad put it in a bag and held it underwater. Sadistic bastard. Childhood trauma. A lynx. The most beautiful hunters of the outer zone. Cat person? Okay. Vivian hunts down a good story at any cost. When it comes to intimacy, she has no restraints. Like a cat hunting mice, she will tear anyone apart until she gets what she wants. If you say so, doctor, let's see where this story goes. If you say so, doctor, let's see where this story goes. I'm going to go. Start treatment. Allora, what are we going to do? Okay, all the different ones. Vediamo. Okay. Ah. Non è per niente facile queste cose qua di stress. Adesso? Ehm. Ma questo riesce a farli anche di seguito? Ok. No. 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 No, no. Il tempo che passa mi fa un'ansia E lo vettiamo questo o lo vettiamo sì con questo qua No Troppo stersata Got stressed Treatment must end Greetings Mindscanner Good job You've removed all insanity within this sector of the structure In realtà lei no This is the end of the demo We look forward to your return in the full game Which is available for WIS Listing on Steam right now For normality and the mind The structure Ok ma non ci ha mostrato volto in realtà C'è il chiuso Ma no ma non è vero Ma dai non è un virus Nulla Quindi questo era Mindscanners Pareri? Non lo so Ma lei non ha convinto così tanto alla fine Cioè mi sembra un papers please Ma con meno sale Per cui Boh non mi ha così tanto convinto Ce lo tiriamo da parte Ma cos'è che le avevo messo qua? Mindscanners Posso spoilerarvelo È categoria 3 Quella che andiamo a vedere adesso Allora Torniamo un attimo qua su Ludo Naracon E riprendiamo la nostra finestra precedente Torniamo su alla Pagina 1 Ma posso cambiare colore della matita Tipo No Struendo di disegno Ah sì che posso Colore linea Paginiamo un Arancio Va bene E facciamo uno No Questo ma Arancio abbiamo detto Ok E andiamo ad affrontare la categoria numero 3 Quindi i Poco interessanti Però con qualcosa che potrebbe Non so Ribaltare Che ne so Ambition Amminuit of power Si prende un bel Categoria 3 Perché Non lo so Non mi dice molto E Nella nobiltà 6-7 Ma Boh Non mi ha Ispirato molto Non è ancora uscito Prende un 3-3 Anche se Potrebbe effettivamente Riprendersi Presto Forgotten fields Lo sto giocando al momento Mi hanno mandato la chiave completa Per cui ne farò una recensione Ne saprete presto qualcosa di più Graficamente non è un granché Come se loro Non mi sembrava un granché Ma in realtà Lo sto già rivalutando E La storia mi sembra molto triste E generica È uno scrittore Che non sa più cosa scrivere E ripensa al suo passato Questa che sta passando Il sottofondo È la musica Di disco Elysium Tra l'altro Sempre parte del pacchetto Allora 3 Come dicevamo prima Mind Scanners Quello che abbiamo appena provato Adesso Di cui abbiamo appena provato Adesso la demo Che effettivamente Non è che vi sembri Esaltante Oltre ad ogni modo C'era anche un 3 qua A Not For Broadcast Che però in realtà Metterei un 2 Dopo averlo provato Giocato E ve ne farò Un video recensione Presto Presto Perché anche se In realtà è in Early Access Ho finito La parte che c'è Attualmente In Early Access Ed è Parecchio interessante Sotto vari punti di vista Ne parlerò meglio Nella video recensione A lui Dedicata Poi 3 Ancora 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 Andiamo giù Andiamo giù Andiamo giù E arriviamo a Un altro Che potrebbe effettivamente Redeemersi Cioè The Longest Road On Earth Per ora Gli do un 3 Non è ancora uscito Però È Bellissimo Andatevi a vedere La live Che c'è Che poi in realtà È uno spezzone Che continua A andare in loop Della canzoncina Che ha fatto L'artista Insomma E musicista Che sta dietro The Longest Road On Earth Perché è davvero Molto Molto bellino E Me l'ha fatto Riprendere in considerazione Sembra triste La pixel art Non mi sembrava carina Ma ci sono invece Alcune cose Di quella pixel art Che sono Estremamente Ben curate Altre no Sono generiche Però ci sono Delle schermate Con dei dettagli Che sono davvero Molto curati E la soundtrack Sembra davvero Molto fatta bene Non è uscito Quindi ancora Non ha potuto Riscattarsi Ma Potrebbe effettivamente Valere di più Di quello che è Il 3 Ci siamo Con La categoria Numero 3 Facciamo che Cattura la finestra Spostiamo A catturare Ehm No Aggiungiamo Cattura scheramo Scusatemi Ok Ok Però mettiamolo Sempre sotto Più che altro Voglio farvi vedere Un attimo I wallpaper Che ci sono Dentro Il pacchetto Della Ludo Naracon Ci sono Da vari giochi Per esempio Vediamo Spiritfire Ci sono Molti Wallpaper Carini Con Bella Risoluzione Che possono essere Utilizzati Tutto questo È dentro Il pacchetto Supporter Della Ludo Naracon Ce ne sono alcuni Anche per Cellulare Come potete vedere La risoluzione La risoluzione Di questi Tra l'altro È 4K Io non ho il monitor 4K Come potete vedere Possiamo zoomare Un sacco Perché si sgrani Sono davvero Di alta qualità Ehm Prendiamo Per esempio Disco E' solo 3D Disco E' solo 3D Disco E' solo 3D Disco The Final Cut E' questa 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 Appa E' Stra Bella Come potete vedere Ci sono dei contenuti Davvero Anche qua Molto di qualità Andiamo a vedere Un attimo Syranoh Abbiamo solo Questo qua Che è la copertina Che è appunto Il gioco Che dicevo Che è incluso Dentro C'è qualcosa Di Mind Scanners Sì Solo la copertina In realtà Nulla di che Quindi Vediamo Urukas Love Shore Uno di quelle Quelle Vesso 4 Non Mi dice Niente Song of Farca Anche la grafica Continuano Qui Cermin Che città E' questa C'è un faro C'è una prigione Cos'è Un Edificio No Questa è una prigione Suppongo O no Questo è un castello Non è Londra Così La questione Di edificio inventato Penso Questo anche Questo sembra Sembra un mare Ci sono anche Dei container Qua grandi Nulla Detto questo Allora Faccio saltare Questo Sì E passiamo Allora La prossima Demo Seconda E ultima Per questa Serata Che È Seguiamo L'ordine Anche se In realtà Sono indeciso Sono indeciso Sono indeciso Sul quale andare Effettivamente Andiamo Veremo di Venice 2089 Venice 2089 Dato che si Prepara il cosino Vi racconto due cose È un videogioco Sviluppato da Ragazzi italiani Che hanno fondato Uno studio Dopo aver finito I loro studi In Game design A Padova Non è ancora uscito Ma vi consiglio Di provare la demo Perché È Non così Comune Vedere comunque Dei Ragazzi Giovani italiani Che si mettono Su questa strada Parla di Venezia Nel 2089 In cui L'inanziamento Del livello Del mare Rischia Di Sommergere Tutto E Sembra carino Lo vediamo Nella Demo Qui con voi Stupid Birds Holy Crap I Wasn't Used This Bed Anymore How much Have I Slept Jeez The sun Is up Already Maybe I should Get up And wash My face Scusate Scusate Va a dormire Così Con la Jacka Impermeabile But Vabbè Although These Bookshelves Are so empty I haven't been Here since 2000 And 79 More or less I used to Collect A lot Of Stuff Here Maybe I will Find Something Special To Collect During My Holiday Ok Quindi Ci saranno Dei Collezionabili La Suppongo Ma Il bagno Dove Sarà Scusate Lassariamo La scala Ah Eccolo Much Better Now I Almost Look Like A Human Being Now Time To Head Downstairs Ok Ok Usciamo Dalla Porta Day One It's Good To Be Back You Dance Seagulls One Day I'll Get Rid Of You You'll Pay For Distarming Me In My Sleep Mi piace Questa Grafica Con Il Paralasse Dietro Molto Carina Scendiamo Giù In Una Casa I Really Appreciate Grump's Music Taste But I Don't Really Know Many Artists From The Twenties These Vibes Are Too Old For Me C'è Ascolta Music Adesso Mai Stiamo Nel Futuro Per cui Morning Sweetie Have You Slept Well Better Than Many Other Nights I Guess You Were Very Tired Yesterday When You Arrived Yeah The Train Ride Was So Boring How Did Your Exams Go Don't Know Yet But I'm Glad I'm Free For Now I Want To Get Out And Ride My Hobby World Bit You Should Tomorrow The Tide Will Be Higher So There Won't Be Many Streets To Ride Anyway I'll Go And Put This Down What's That Wanna Know Shoot Bang Oh Silly Me Jokes Aside I Have Something Going On And I Need To Stick These Posters Around Town Posters In 2089 Why Don't You Advertise Whatever It Is Online Why Not I'll Also Advertise It By Posters I've Already Programmed All My Posts Still Nothing Beats Good Old Paper Sadly I Don't Have Much Time To Run Around But Today I Have To I Could Do It For You If You Don't Mind You Sure Nova Yeah Sure I Wasn't Going To Do Anything All Day Anyway So Where Should I Put Them You Are Very Kind Thank You I Was Thinking About Sticking One Here In Santa Marta As Most People Live Here One Of The Market For Sure Everybody Goes There At Least Once A Day You Could Go To Centro To Get Get Like As Soon As I Step Out I Don't Even Know These Places Oh I Sure You'll Be Fine Anyway There's Plenty Of Signs And Landmarks You Can Use You'll Find Your Way Eventually Thank Thank you Again Yeah No Problem See You Later And Don't Get In Trouble You Wish Ok Allora Grandpa Give You A Quest Tab Per Il Backpack Ok A Questa Potrebbe Lavorarci Un pochettino Di più Perché Non è Che Sia Particolarmente Carina L'interfazione Interventario Ah To Do Ok Do Andare Con Il Due Ok Sono Le Quest Va Bene Cosa C'è Sotto Atlas 7G Non mi piace Anche L'effetto Sonoro D'aprire Poi c'è Un sbriolucicchio Strano In basso Cioè Non lo so Se è voluto Usciamo Ficco Però Che ci siano Tutti i posti Veri Ed Vera Gente Insomma Che L'ha Fatto C'è Gente Che Conosce Davvero Venezia O Venezia Che Si Vole Tutto Nero Non c'è Un caricamento Né nulla Pronto 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 Ecco Finally Outside Now I can Skate Around Maybe Listen To Some Music Too Ah ok Qua c'era La baccheca Prima They Needs You Join The Showcase On July Thursday Hope Someone Will Show You With Pa Ok Le animazioni Non sono un Gran Che Però Porca Miseria Cioè I cancelli Le case Sono Super Verosimili Santa Marta Lol Così All'improvviso Statue That Will Move People He Is So Sure He Is Going To Change Something With It I'd Like Some Of That Self Confidence Ma cosa guadagniamo Così a fare qua Santa Marta Gang Lol No L'animazione Per il salto È solo un po' Da rivedere Però Ci sta Cioè nel senso Il loro primo Titolo Comunque Safe With Us Sì Predicted Level 299 Centimetri Eh Quasi 3 metri Di acqua Alta These leaves smell so good Basilicone I guess that a basil ice cream will taste good too Ci puoi giurare Ehm Il ponte qua si può Fare Sì Si Ecco Non mi piace tipo così Come sparisce qua Però Sette volte Zattere Non si vede molto bene Ehm Sette volte Cerce Ok Ci sono le indicazioni Solo per i posti In cui doveva andare A lunga Che 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 Leo? Is that you? Who? Who's? Nova? You're already here? Yup. After 10 years the bird returns to the nest. How's it going, Leo? I can see that you took care of your artistic band. And for the good. This graffiti looks amazing. Look amazing. Thank you, Nova. You know I really put a lot of work in my art. But not everyone seems to appreciate it. Like the priest, Anthony. He wants to remove one of my masterpiece. Speaking of which, I have to finish this one before the high tide comes. Do you mind if we would talk tomorrow morning? No problem. See you tomorrow. Do your best. Bello questo comunque. Bello. Hello. Hello. Hey. What now? Yeah. Hello. Am I interrupting something or... No. Not at all. I was just having a small break. Right. So what is this place? This place... Yes. Welcome to Max Ice Cream Shop. Absolutely. Positively. The best ice cream is made is... I see. Can I have an ice cream then? Nope. Hmm? Why? Because I don't have any ice cream left. And the last shipment has not arrived yet. Unless you want to eat sprinklers. Fair. So when will it arrive then? No clue at all. I'm starting to think that people forgot about this place. I mean... I would. Why do you think so? Well, first of all, as you can clearly see, there aren't many customers around. The rest, I'll just spare you the details. Well, maybe I can help you. Hmm? I was watching your ice cream list. While you do have all the classic stuff, there's nothing really interesting. So you may want to work on that. You think so? As far as I remember, people used to love those flavors. Yeah. Used to. You need to step up, man. I guess you're right. But where would I find new flavors? I can't just walk around and grab things, right? We can put that to the test. What if I find new interesting flavors? And you'll give me a free ice cream for each? What do you think? Deal? New flavors. For a free ice cream. Sounds reasonable for me. To me. Deal! Good. I'll be on my way then. See you later. Max. Right. See ya. Tutti i frutti. LOL. Allora, vediamo un attimo di... Ehm... Continuare cosa sto... Allora, quale zatteri c'era... Uno. Ah, eccolo qua. Be nice with... Be nice. The knees. Ehm... Ah, this isn't... Isn't this joke too old even for him? Ah, no. Qua dei concatenari giusti. Ok, per cui... Ok, per cui... non faceva il colore rosso sotto, no? Ok, so... This guy seems important. I wonder who he was. Ah, i cosi... Ah, i cosi scompaiono se sei se zatteri. They will... Burn. Ehm... Zatteri? Ok, ma noi non vogliamo andare alle zatteri. Vogliamo andare sulla chiesa. No, no, qua non mi fa andare. Ok. Alcuni pezzi sono vero ispirati, ma... Se torno indietro, ho di nuovo gli affari che avevo preso prima. Ehm... Sì, e allora perché li prendo? Ehm... Oh, no, no, quale... Ehm... Market... Non devo andare al mercato in realtà, ma vabbè... Andiamoci. Ehm... They are watching. Pigeons will never look the same from now on. Ehm... 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 That's the thing. Cos'è che d'acqua? Healthy point. You don't have enough money. You need one bitcoin to buy a watermelon cube. One bitcoin? What? C'è, un bitcoin sono... Fantastiliardi. 5 bitcoin per lo souvenir. Prezzi pazzi. 0,99. Fall? Market... Cosa c'è scritto? Ah, è la... Cosa di San Marco, l'Evangelista. Ehm... Ah, no, qui per tornare a casa, ok. C'è la scelsore. E il leone qua? I can't believe this lion is here after all this time. Gramps made it years ago. Here's an amazing glacier. What are the last ones? Ok, però... Alla chiesa... Era... Tipo in su che bisognava andare per la chiesa, no? Inner... Drosso duro... San... Tommaso... San Tommaso... Panorosetta! Che bello! Tizio di Panorosetta! Oh! Sorry, I didn't mean to scare you. I'm just minding my business. Look who showed up! You have grown up quite... Quite cute, sweetie! Me? Cute? I could... I could throw up! Ha! Do we know each other? Oh, sorry, sweetie. Of course you don't remember me. You were so little last time we met. I am a really close friend of your grandpa, you know? I'm Rosetta in case you forgot. Name doesn't ring a bell to me. But sure, go on. He talks a lot about you. It's nice to see you again after so much time. He look a lot... You look a lot like him, you know. You mean he's an old outsider as I am outside? Yeah, I totally agree. Ha ha ha! You are also as funny as... Wait for bread! Hold on, I already took it out. My...my...I'm a lost cause. So, you're a baker? Yes, sweetie. How do you manage business with the high tide? Well, to be honest, I'd like my bakery to be fully upstairs. How so? I'm scared of sudden high tides. And closing those armored windows every time is stressful. So I just move completely up and seal the first floors completely. The only downside is that my bakery would be only accessible during the high tide. But I try not to think about it too much. Aren't tidal predictions trustworthy? I guess so, but you can never be too sure. They used to say climate change wasn't an issue. And now we're barely holding the planet together. I see. Well, I think I'm gonna go my way then. Alright, see you around, sweetie. Yes, see you. Sant Trovaso, no Sant Tommaso? Dov'è c'è di qua? Ah, eccolo qua. Discover a new Venice while I'm sold. Anyway, I have no posters left to attach. Adesso possiamo tornare da... Ah, questo il prete forse. Giovanni sembra. about time when will kids learn some respect what are you talking about don't pretend you did nothing drawing graffiti on the walls of a heritage site like here in the church of San Trovaso it's immoral and illegal you know so it's time for you to amend your sins and clean all the graffiti of the church wall I think your heritage site has worse maintenance problems at the moment do you think I don't know yet we all should start somewhere otherwise we are not going anywhere here take this and start cleaning all this time and I didn't even clean half of it well guess I still have to work to do here ok then I have I hope that priest doesn't mind that I left some paint done done man of little faith I'd like to apologize before I got a bit out of my salt this church really needs renovation and I can't stand when someone makes things worse yeah whatever I had nothing to do so I claimed your world even if I wasn't the author of those graffiti don't even ask me why I did it so it really wasn't you yet you still claimed well maybe I was wrong about you here take this it's not much but let me at least thank you for your time a rosary hmm I'm not really a believer no matter this is a token of my gratitude whether you believe in it or not well thank you anyway now go in peace bye bye ok quindi alla fine non c'è andato male il fatto di pitturare la non so se ci serve a qualcosa a rosario ma se ce l'ha dato probabilmente servirà più avanti con qualcun altro dobbiamo andarlo a qualcuno adesso vedi oh la scia colorata hey pa I'm back oi how was your day? fine I guess went around saw nice places oh and I did your thing amazing how I get to accomplish something that's great I really hope this will help together some more people I hope too pa you are so committed of course I am I've never served a job so prestigious this statue would represent the beauty of a Venice free from the effects of climate change more than a statue it would be a message but some people still don't get it I guess some people only care about their own business and that's why they are wrong then its future is their business so they should care about that yeah I know I was just saying that they don't seem to care as much as you do I'm sorry I got a bit emotional I wish other people felt the same way but you said you had a little fun today isn't it yeah you could say that oh I almost forgot I left you a gift in your room it's a raw piece of glass discarded from today's work in the lab nothing special but I felt it matched your mood today oh that's sweet of you thank you pa love you nova good night quindi forse abbiamo perso la secondaria quella del gelataio cos'è che ha messo la ha appeso qualcosa adesso forse è rosario del tizio ok aspetta che ci sciocchi no non dobbiamo sciocchi la faccia oggi no 0-2 riunione good morning nova hello there Gerald Kenobi sorry I was quoting of one of my favorite movies how are you I'd say great up until I saw that off of Venice is now fish territory being famous I tried long ago it was a small issue coming once a year but now we have to cope with it every couple of days and every time the levels get higher a lot of people fled because of this and now the population of Venice is at an all time low well no need to talk about these things early in the morning heading out you know me working in the lab you know me very well oh and one last thing you remember Leo right he passed by some minutes ago I think he's waiting for you outside neat thanks pa you know I don't really like him granted he does care about Venice but he's still too violent and harsh what do you mean I'm sure he has his reasons you'll see and I'm sure about it it's just that I don't approve of his merits when should approach matters peacefully otherwise we'll never see the end of it but that's just old grumpy me go on have fun see you this evening roger vet see you pa I don't know in the description I also spoke of a drone like that but not there is actually this drone not there is the caricature probably so there is this thing nera 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 eccoci hi nova sorry for yesterday I had I really had to finish finish that graffiti before the high tide came so how has it been I think you have plenty of stuff to tell we haven't seen each other in ages it's all going fine I'd say it's good to take a break from hexams and stuff haha sure so how's your new home it's an old man home I guess I missed venice thought I can't imagine nova it's hard to forget a city like this even if venice isn't at its best now what do you mean oh you know the city is getting wrecked and no one wants to do anything about it one of these days I'll let you see what I mean anyway are you busy today I got nothing on my to-do list I guess I can scratch that now great I have a little something to give you then tada whoa that's my old toy drone where did you get it your grandpa gave it to me when you moved out wait it's it's still working see for yourself why don't you grab that feather up there should be easy enough ah quindi sì ce l'abbiamo adesso il drone sì easy oh I just remembered this thing has a button that would make funny noises yeah I remember too let me try that hello really always sound like that it's awful maybe it's just broken in that case I may just know how to fix it oh really made me near zattere ok andiamo là ah è tutto cambiato ah c'è la tizia come chi si chiama hi again sweetie Rosetta it's a beautiful day isn't it I don't know how you people can say that don't you see the flooding the high tide you say don't worry about that sweetie I'm well aware aware of that you'll get used to it it's not like we have that much of a choice at least I have my bakery I think I'll never get used to this and well it's nice to see someone holding on oh I am so happy to hear it say are you busy at the moment it depends why well can you do me a favor I need to make a delivery to Justino he's a guy living in the center of Santa Marta why don't you do it yourself well I could do it but you see I'm really really busy right now there is literally no one here yeah you're right but I still have to look after the bread you know otherwise it'll get burned yeah sure otherwise all of these clients they'll be upset right fine I'll do it ok dobbiamo tornare a Santa Marta per cui eeeh però Santa Marta dove di preciso cioè qua è Santa Marta ciao 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 paolo forse lo è giustino il doge con un you are giustino, right? oh, yes, that's me what can I do for you? I have a delivery for you from Rosetta oh, yeah, right, the baker so? right, sorry I'll be taking it then thanks no worries see you around this would be a zatter ok giriamo di qua ok, ottimo no, ma respawno nei cosi dopo un tot comunque ci sarà ancora il basilico non so se gli basta il basilico guarda dove è tizio qua il nostro amico beh vogliamo parlare con il gelatoio intanto oh, hi, it's you again how is it going still looking around good, come back when you have something for me ok, quindi non gli va bene il basilico ma l'altro ha detto l'altro ha ben detto ah, ok ho visto tante cose between zattery and warehouses tra i zattery e i magazzini per cui forse giù sotto qua ah, tanto adesso abbiamo anche il drone no ah, no perché è rotto oh, cos'è che c'è qua? un bitcoin vi ho trovato? buono si comprava un melone quindi a me era un melone veniva un bitcoin ah, eccolo here you are so what now see that camera over there yeah we need to eat cables what you expect me to destroy a public property for my drone oh, come on Nova it's an old camera unused for years and besides i think those who manage Venice have more important problems than a broken cam don't worry about it oh, right dude that blast was awesome can you do it again? no i think you've done enough damage it's a miracle it still works alright, alright can you do me a favor, blue? what? can you follow me to zattery? just turn left from there this gave me an idea oh, ho paura questo ci metto in guai dimmi so, are you ready for what? that hollow emitter zabir with a drone what? that has to be illegal come on Nova i told you the higher ups won't take care about the hollow and we're not going to break it just poke it with a drone here goes down to the other here goes nothing here goes nothing told you i'll admit this is kinda funny oh, i almost forgot if you do these kinda things it's always better to cover any cameras nearby just to be completely sure no one saw you i see, thank you maybe next time tell me this before i tinker with public property are you trying to frame for vandalism jeez Nova funny as not always well, i suggest you pick something nearby and cover the camera with it you'll have a drone so it'd be easier great I think we had enough fun for today you can keep the drone if you want yeah, sure but repair it before you go right i almost forgot and infatti sto prendendo il drone anche io riparamelo hai detto come lo riparavi i'll be quick ce vado a distruggerà la telecamera apposta you haven't changed match 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 i know right and so far i'll be produced et voila let's be all wanna hang out these next days sure thing great see you around then ok a memory from Leo and so and so and so and so no c'è qualcosa qua però no c'è una mappa per caso? no sotto indicazioni scritte market eccolo qua healthy point si ok che probabilmente è quello che ci serviva per io tizio no si very geometric flavor e ma dobbiamo trovare altre roba in giro tipo qua poi ricordiamo che ci credo che dobbiamo guardare anche sopra perché potremmo trovare delle robe in alto pum 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 ah qua c'è giochino come si chiama valtizio Ah no, aspetta C'è uno spritz là sopra Prendi lo spritz Un gelato allo spritz ci sta sempre Arriva Quindi Quindi aspettate Abbiamo A flavor that's not for children Ok Ok Vediamo se Sono tipo dei collezionabili alla fine Questi qua Qua Hai qualcosa da prendere lassù per caso? No Cos'è quello la sopra? Aspetta Questa è una larga Quella è flavor under the fish Under the sea Qualcosa è carboidrati A flavorful abomination A flavor That slaps Qualcosa le sopra? Qua raccoglie qualcosa? No, di quei peperocini No Ciao prete Ma dove mai sapere la chiesa comunque succede? Scusatemi Allora Non sto vedendo granché in giro in questo momento Ah delle casse Un altro bitcoin Questi bitcoin abbiamo Solo uno Quindi non possiamo comprare La roba là che ne costa 5 Ah di quei ci siamo già passati Qua c'è il tizio C'è il giustino E' facile perdersi Eh di che se ne troviamo qualcos'altro Ma qua ci siamo appena passati Andiamo Andiamo a tornare a casa Della nonna Ah qua dove c'era il graffito Del tizio Del nostro amico Ah c'è qualcosa Della spazzatura Ok un altro bitcoin Ah ma qua ci siamo passati un attimo file Dove c'è la chiesa E non abbiamo visto il bitcoin Entra la spazzatura E però ci mancano ancora 3 bitcoin Per ottenere quello Più Ah no Forse l'altro ce lo dà la tizia del pane Può essere Dice Oh eh abbiamo fatto Welcome back Did you find Justino? Yeah And I deliver you a thing I see So Justino What about him? Yeah about him He's a cute guy Don't you think? I just wanted you two To meet each other Oh I get it Thanks I guess But I'm not really interested Oh sorry sweetie I should have known That he wasn't your type That's not what I mean Rosetta I'm here to take a break From my boring everyday life I'm not here for looking for love So please Please don't do this anymore Oh ok Anything I can do To make up for this? No don't worry Everything's ok Here take this What is that? It's a copy of my book You can find all my recipes here I honestly don't know how it could help But I have too many copies left Maybe I should have known That people in Venice Don't really care for a recipe book But it's now too late Yeah thanks Rosetta Maybe I If I pick up a food blog in Korea It'd be useful one day I'm glad you like it See you around Swiri Noo però Mi ha dato una memoria Spero che mi desse del pane Per Per qua Per tutti i frutti Something in carboidrati Cos'è questo? No Torriamo a casa Ah la deve finirci dopo il secondo giorno Vabbè Mi sa che ho visto tutte Bastate Ah I Kellogg's Hi Gramps Good evening Nova So how's it been with Leo? Great It's nice to see each other after so much time Yeah It sure is What did you two do? We just wandered around the neighborhood Oh and he gave me my old toy drone You know The one you gave away Really? How nice of him It's that He's such a bad influence And And what? Can't I just meet an old friend of mine? I know what I'm doing Hopefully you do You still look quite different today Are you sure you didn't do anything stupid with that guy? No Come on pa Don't be dramatic You and your suspects are making me very upset You said you comprehend his reasons So do I Now please Can we stop talking about this? I'm really tired As you wish Still Be careful where you are with him Okay? I just want to protect you Even if you grew a lot Tomorrow I have some important stuff to do I'd really appreciate your help I'll think about it Good night I have some important stuff to do Come on Everyone cenic Reduit jimple Matteo Brentegani Marina Andreose Redesigner UI Community Manager Giacomo Cecchin Checchino Director Fredrico Giurato Characters Ilenia Barzan Isaac Parise Claudia Brombo Fabiola Bonfanti Andrea Giovenco Roberto Venezia Il programma si chiama Venezia con la città Bello Giovanni Colussi Fmod Studio By Firelighter Special thanks for working with us Ehm Sento schifino Andrea Graizzaro Garbo Irzillo Trevisan Graizzaro Cesaro Sorpilli Corso Corazza To our testers Mattia De Pecol Matteo Raio Jackie Zeng To Family and Friends I CIO Tester Event Horizon Ah han fatto la Event Horizon Ecco a padua Thank you for playing Safe place Fine Bene Ehm Non so voi Ma mi ha abbastanza Interessato questo E' un po' Ancora acerbo Deve ancora uscire Effettivamente non è ancora completo Però potrebbe essere interessante Cioè potrebbe fornire qualcosa di Di normale Insomma nel panorama italiano E qualcosa comunque di nuovo Di indie Sono contento che sia finito Anche nella Ludo Naracon Perché darà loro Immagino Possibilità di farsi conoscere Di più Quindi io Non ne avrei conosciuti Insomma se non fosse stato Per questo Detto ciò Direi che per oggi Possiamo concludere Per la serata qua Ci vediamo domani Alle 16 Per continuare Questa Ludo Naracon Ehm Con le ultime due demo Che saranno Svoboda 1945 Ehm Beacon Pines E per concludere Gli altri due tier Cioè per la Discussione ancora Degli ultimi giochi Che ci rimangono Da suddividere Tra il best E il quasi best Per chi guarda invece Questo il past broadcast Vi ringrazio comunque Per la visione Vi lascio Vi invito A lasciare un mi piace E iscrivervi al canale E al canale Telegram Per restare sempre Aggiornati Sulle live E su tutte le varie attività Che porterò sul canale Ciao a tutti Buonanotte E buona giornata Invece Il past broadcast Ciao Ciao